Rispetto al 4-4-2, quindi giocando magari un po' più avanti? Sì, forse sì, perché ho un po' di più copertura dietro e così posso attaccare un po' di più e lasciare fase difensiva un po' a parte. Ti senti bene? Fisicamente stai bene perché sei del corso tantissimo fino all'ultimo. Sì, fisicamente sto abbastanza bene, ci alleniamo settimana e settimana bene, poi i risultati arrivano. È il tuo momento più bello da quando sei a Pato? Sì, adesso sta passando il terzo anno che sono qua e posso dire di sì. Perché va bene, anche gli altri anni non erano belli, però quest'anno sto giocando di più. Non è stato facile, il primo anno non ne hai quasi mai giocato, il secondo così e così. Magari è stata anche dura per te passare quei momenti? Sì, certo, quando un giocatore non gioca è dura, però si deve allenare sempre e aspettare il suo momento, perché prima o poi arriva. La settimana prossima compie anche gli anni, giusto? Sì, giusto. L'unica cosa ti manca il gol, non sei ancora riuscito a segnare il campionato con il Pato? Sì, è vero, manca anche a me tantissimo, spero che arriva più presto. Anche oggi hai avuto due occasioni? Sì, sì, mi manca quel pizzico di fortuna. Magari, dico che tu abbia timore, però magari davanti alla porta ti viene anche da pensare che non hai ancora segnato. Sì, sì, tutto insieme, un po' questo, un po' altro e poi non va dentro. Comunque tu hai il terzo anno che sei a Padova, insomma sei contento di stare qui, ma ti sei ambientato, sei un veterano. Sì, mi sono sempre trovato bene, ma il piazzo è importante, come sappiamo tutti, mi trovo bene. Sì, di questa squadra avete fatto un bel passo in avanti, ma merita la classifica che ha, oppure, insomma, è ancora un'ingiustizia che il Padova sia così indietro, soprattutto dopo la prestazione di oggi. Certo, però quando sei in certa zona di classifica, no, è difficile andare in campo, no? Poi oggi abbiamo dimostrato carattere in tutto e speriamo di rialzarci il più presto possibile. Sì, mi aspetto di fare ancora di più le presenze che ho fatto oggi e spero che arrivi anche qualche gol. Questo soprattutto, anche che la squadra va bene, no?